Nicodemo Vitetta questa sera qui ad Amato si presenta il tuo nuovo libro come Rose nella roccia. Per me è un piacere una bella occasione perché è la prima uscita ufficiale di questo libro e io sono veramente orgoglioso di essere venuto in questo paese straordinario che ho avuto modo già di apprezzare in altre situazioni. Questo è un libro che racconta delle storie vere di violenza sulle donne e la comunità di Amato sta rispondendo bene perché il pubblico è numeroso quindi sono sicuro che sarà un bel evento. Ci anticipi qualcosa sul tuo libro? Ma questo è un libro praticamente la seconda edizione perché avevo scritto Anime Rosa che tratta sempre di violenza sulle donne. Questo è un libro un pochettino più tecnico perché c'è una parte di saggistica dove spiega il problema, il fenomeno della violenza con storie nuove, storie recenti che purtroppo sono vere e che ho conosciuto direttamente. Grazie.